Buongiorno a Carlo Vanzina, regista, sceneggiatore, produttore, figlio d'arte del grande Steno, ha formato col fratello Enrico un suo Dalizio ormai che fa parte della storia del cinema e è venuto su e cresciuto a pane cinema, no, perché poi lei ha lavorato con Monicelli, con Sordi, insomma insieme anche a suo padre e con Vanzina. Noi parleremo ovviamente adesso di questo suo ultimo film, tra poco nelle sale Caccia al tesoro, però vogliamo farci raccontare anche un po' dal suo punto di vista che cos'è il nostro paese, perché poi quella che era la commedia all'italiana, anzi partito da questo, esiste ancora la commedia all'italiana Vanzina? Esiste nelle strade, la commedia all'italiana è tutti i giorni, quando tu leggi la mattina il giornale trovi proprio mille spunti per la commedia all'italiana, perché poi questo è il paese della commedia all'italiana, dice mio fratello sempre che siamo rimasti il paese di Totò, in realtà è vero, perché poi ci sono delle cose all'italiana, come si dice la commedia all'italiana, insomma noi abbiamo un tipo di approccio alla vita che è meraviglioso, perché riusciamo a trovare, gli italiani riescono a trovare anche il lato comico, anche nelle tragedie, questa è stata la nostra forza. Questa è stata la nostra forza, però oggi questa forza rischia di diventare, come dire, di essere raccontata poi anche dagli altri, dai detrattori dell'Italia, come siete superficiali, c'è questo sottofondo sempre un po' da buoni truffatori, c'è anche questo poi. E poi invece non è così, abbiamo scoperto che c'erano delle storture in altri paesi molto peggio di quello nostro. Ma noi siamo autolesionisti? Noi siamo un po' autolesionisti e siamo anche un pochino piagnoni in certe cose, però poi dopo sarà il clima, sarà la bellezza di questo paese, perché io avendo viaggiato molto è il più bello dell'Italia, non c'è niente, è il paese più bello del mondo, perché in un piccolo territorio raccoglie tutto, le più grandi bellezze artistiche, le più grandi bellezze paesi artistiche, è meraviglioso. E quindi noi abbiamo questa eredità, che ce l'abbiamo e la teniamo, e quindi in fondo in realtà diciamo, viviamo di rendita di questo. Eh, che è un rischio, perché vivere niente vuol dire sedersi a volte, non fare le cose. Beh, ma però quando c'è da tirare fuori con le unghie e i denti... No, anche perché diciamo una volta... Meno che nel calcio purtroppo. Vabbè, lì, diciamo un capitolo... Capitolo dolente. Capitolo dolente. Su quello, su quello, peraltro volevo dire, noi spesso vi raccontiamo di cose che non vanno, di criticità, però ci sono anche cose straordinarie che nascono dal talento dall'estro italiano nel mondo dell'arte, ma non soltanto quello, nel mondo dell'industria e dell'artigianato. Allora, sempre a proposito dell'Italia, lei l'Italia che vede per il suo lavoro, ma anche nella sua vita quotidiana. E un'Italia, uso qualche aggettivo, rabbiosa, è un'Italia rassegnata, che Italia è? Beh, rabbiosa lo è, secondo me, adesso, tanto è vero che abbiamo assistito anche dei movimenti che stanno nascendo, populisti, perché c'è comunque questo senso che se ne sono approfittati un po' troppo, c'è stato questo grado di corruzione, di non fare, i soldi vanno a finire in posti dove non dovrebbero andare. Insomma, c'è questo senso, è un pochino anche l'assenteismo quando si fa le elezioni, questo è un segnale preciso che la gente ne ha un po' scatole piene di tutto questo, cioè vorrebbe un cambiamento, ma questo cambiamento però non riusciamo a capire qual è, in che direzione andare. Non deve partire anche da ognuno di noi però il cambiamento. Deve partire da ognuno di noi, soprattutto da un senso civico, da un senso così di responsabilità che a volte vedo che sta mancando, soprattutto sui giovani. Noi quando eravamo giovani facevamo discussioni politiche, erano tutti infervolati, io ero nel periodo del 68 per cui eravamo arrabbiati, dovevamo cambiare la società. Questa pulsione non la vedo più, io ho delle figlie che hanno 20-22 anni e sono disillusi, sono proprio quelli che vorrebbero andare all'estero, questo è molto significativo. E rinunciano a cercare, a lottare in Italia, dicendo andiamo all'estero. Sì, perché sono disillusi e non hanno fiducia nel futuro, questo è veramente un atteggiamento preoccupante, perché poi l'Italia, poi adesso che vediamo tanti migranti che dobbiamo accogliere, però sta diventando un paese che piano piano gli italiani se ne vanno, è quasi una migrazione al contrario, mentre arrivano da noi i migranti per venire in questo paese dove vengono delle situazioni di tragedia assurde, noi invece ce ne andiamo da un'altra parte. Ecco, a proposito dei giovani, perché lei ha sottolineato questo elemento, e anche nelle sue commedie, nei suoi film, il mondo giovanile ha trovato ampia ospitalità, sono soltanto quelli che vogliono scappare o poi ci sono anche quelli che si rimboccano le maniche e fanno tante cose? Ci sono tantissimi giovani preparati. Cioè c'è un cliché un po' confunto anche da parte nostra nel raccontare i giovani? Sì c'è però, voglio dire che tutto questo può essere cliché, però in realtà non dobbiamo dimenticare che c'è gente, secondo me è la fame che fa, è la fame di lavoro, di migliorare, invece siamo stati a un certo punto forse dopo il boom economico è venuta una generazione sazia di figli che si sono appoggiati ai genitori che non andavano via di casa e tutto questo ha creato una situazione un po' di tranquillità, di non cercare una strada in maniera autonoma. Mentre adesso vedo che c'è molti giovani che escono a voglia, soprattutto che sono aperti nuovi scenari, adesso con tutta la parte informatica, tecnologica, quindi ci sono tutte nuove professioni che si affacciano e che sono pertinenti ai giovani. Senti facciamo una cosa, vediamo un piccolo estratto di caccia al tesoro tra poco, quando esce nelle sale? Esce giovedì prossimo, 23 tutti al cinema a vedere caccia al tesoro. Giustamente, legittimamente l'anzina incita ad andarla a vedere, vediamo un piccolo brano e poi ci racconta un po' l'anzina che c'è in questo caccia al tesoro, vediamo. Stagiannati prego, tu ci devi aiutare, il tuo cappello è pieno di gemme preziosi, ma non ne basterebbe un po'. Vai tranquillo, vai, lo puoi fare. Quindi ne possiamo prendere anche due? Piano! O esagerate, basta per mettere le mani su quei gioielli, ci vorrebbero Giorgio Cluney e Brad Pitt, e io come soggio del caffettinato fai la mia cognata Rosetta senza offesa. Abbiamo bisogno di un cavallo di troia per arrivare al tesoro. Io un piano ce l'avrei, però non serve un cavallo. Corre solo la troia? Io a Torino sinceramente non ci vorrei andare, là c'è il copo del traditore. Gonzale Guaino! Ma che d'affanculo tutti e due, no, una sì, è nata, no. Io voglio vedere i faraoni. I faraoni, quando siamo a Capri te li faccio vedere. Io so, i faraglioni, i faraoni al Museo Egizio. Questa è la pianta del Museo Rosario, quindi come andiamo, volando? Volando, sempre che è pronto il costume da battano, perché stiamo in Torino. Ieri notte hanno tentato di rubare il tesoro di San Gennaro, non vi preoccupate che a si figgendo oggi ci pensiamo noi. 20 centimetri sotto il chiodo, sulla destra. La verità, taglia sta mano. A tu sta il cappello di San Gennaro. Era un furto sul commissione per un collezionista landese. Mamma arriva fino a Bucaresta. Mondesi Amsterdam. Ma che Amsterdam? È a Cannes. Tu non vai da nessuna parte? È un poliziotto. Non sono un poliziotto. Ah, è un attore di comoda. Ci si è andato quasi vicino. Tutta corpo alle storie cazzine. A rubare pure il drono. Si dice drone. Che dice aeroplani? Aeroplano, drono. Volano. Tanti scienze. Allora, Lanzina, che cos'è? La storia di un furto a fin di bene? Sì, è un furto a San Gennaro con l'autorizzazione del santo, ma in realtà invece questo santo è il posteggiatore. Il tesoro, il grande tesoro di San Gennaro. Ma in realtà invece è il posteggiatore che sta fuori dalla chiesa e loro gli arriva questa voce e interpretano che la Stata gli ha parlato e gli ha dato. E quindi comincia. Poi invece questo tesoro viene spostato a Torino, poi a Cannes. Quindi comincia questa caccia al tesoro buffa, dove però ci sono dei personaggi che poi si inseriscono anche loro in questa caccia al tesoro. È un film divertente, c'è tanta comicità, ma c'è anche un po' la maschera della commedia italiana, le maschere della commedia italiana o no? Sì, perché proprio per questo legame profondo che abbiamo sempre avuto attraverso anche il nostro padre con i film di Totò, Peppino dei Filippo, lo spirito napoletano e l'attore napoletano è centrale nella nostra storia, nella nostra famiglia. Quindi è un omaggio a quel tipo di comicità napoletana tradizionale, molto comica e molto buffa e che cambia un po' questa percezione di Napoli che abbiamo ultimamente data da Icomorra, da tutti questi camorristi, da questa Napoli brutta, piena di gente che fa i malamente. Invece questa volta raccontiamo una... poi c'è un finale che adesso non... Non lo svegliamo. Non lo svegliamo, che è una bella favola, insomma. E lei ha detto, insomma, per dare anche un pochino una visione diversa appunto della Napoli che spesso raccontiamo. Lei citava Totò, io ho letto nella sua biografia che lei da ragazzino, da piccolo, ha recitato con Totò, no? Facevo Totò da piccolo, in un film di mio padre Moniceli che diceva Totò le donne. e diceva a Totò, io fin da piccolo ero stato ossessionato dalle donne. Io stavo in un box e giocavo contento, arrivavano delle donne che mi prendevano e cominciavo a piangere. Allora questo dava a Totò a dire che era ossessionato fin da piccolo. Che età aveva? Non aveva neanche un anno, credo. Quindi non lo può ricordare. No, non lo posso ricordare. Totò, sordi, ha lavorato con sordi? Io ho lavorato con sordi e ho fatto l'aiuto regista e siamo stati sempre molto amici. Poi mio padre ha fatto un americano a Roma, quindi è stato uno dei film più... Sordi mi ha insegnato tanto, è un personaggio meraviglioso. Com'era Sordi? Sordi era di una simpatia unica, era un uomo che voleva sempre scherzare. Poi queste sue piccole taccagnerie, queste piccole... ce l'aveva. Lui per esempio faceva una cosa molto divertente, che lui dice che non aveva due figli perché in realtà lui ce l'aveva. Allora tirava fuori dal portafoglio, aveva ritagliato su Life Magazine una fotografia di un bambino biondo meraviglioso. Ecco, questo è mio figlio, eccolo qua. Lo baciava. Un po' come nei film, poi. Un po' come nei film. Per chi ha qualche anno, come me, come lei, ci sono stati grandi mostri sagri del cinema italiano, tra cui Alberto Sordi. Oggi che generazione di attori c'è? Oggi c'è una generazione che è nata proprio quando si sono rinnovati. Quindi io penso a un grande amico che è Carlo Verdone, che è veramente una maschera straordinaria. Christian Defica, Massimo Boldi, che sono degli attori che mi hanno accompagnato per tanti anni, che sono bravissimi. Vincenzo Salaemme, Carlo Bucci Rosso, Gigi Proietti con cui ha lavorato. Però già sto parlando di attori che hanno un'età. Abbato Antoine. Tra i giovani con cui non ha lavorato. Diciamo, lei vede un film fatto da qualcun altro e dice, questo è bello. C'è un fuoriclasse. Chi è? Fuoriclasse. Che cozzalone. È proprio straordinario. Che non piace molto alla critica. Non piaceva. La critica si è ricreduta. Si è ricreduta, ma è straordinaria. Ha distinto anche lei un po' questo rapporto contrastato con la critica? Sempre. Appunto, per i suoi film. Sempre, perché quando sei popolare, quando hai consenso, è anche giusto che sia così. Non puoi piacere a tutti. Però anche Di Totò ti ha detto, diciamo, peste e corna, poi è stato santificato. Dopo, però, poveraccio, c'è un episodio così malinconico che quando gli dettero un premio alla carriera a Napoli, l'unico che stava in sala a questa premiazione di una carriera, il coronamento di una carriera, era mio padre. Dopo andò a salutarlo in camerino e Totò piangeva. Non è venuto nessuno. E poi dopo, quello che è successo a Totò dopo, non l'ha potuto vedere, però queste riabilitazioni postume sono un po' tristi. Senta, voglio chiedere, questa volta è anche lo scollamento, noi diciamo spesso parlando con la politica, lo scollamento dei politici, dalla vita reale, a volte c'è lo scollamento anche di fare il nostro mestiere, con, diciamo in questo caso, il cinema, insomma, l'opera d'autore. Il cinema riesce ancora, come ha fatto, come spesso fa, ad anticipare, a raccontare magari meglio, anche di reportage giornalistici, la realtà? Io credo che sì, credo che sia una delle funzioni più grandi del cinema, l'ha sempre fatto, soprattutto il cinema italiano e anche di commedia, ha raccontato proprio delle situazioni sociali, di personaggi, anticipando i tempi e in realtà condizionando anche un po' la vita di questo paese. Ma che pensa quando dice così? Beh, anche dei film importanti, parlo dei film, certi film di Petri, di certi film di impegno civile, ma lo stesso Sorrentino ha anticipato un po' con questi film, la grande bellezza, un certo tipo di società anche vista in maniera poetica, artistica, come fa lui con delle immagini meravigliose. Però penso a Garrone che ha raccontato con Gomorra, è stato quello che ha dato il là, su Burra, insomma ci sono dei film che anticipano e che scoperchiano un po' anche dei tabù che magari non vanno scoperchiati. La politica è entrata moltissimo in tutto questo, è sempre nel mirino del cinema. Non c'è dubbio il cinema, soprattutto negli ultimi tempi, ha molto preso di mira la politica. Devo chiederle che cosa pensa di questa pentola che si è scoperchiata in America, di questi scandali, no? Col re dei produttori americani, lei lo conosceva? Io non lo conoscevo, mi era molto antipatico a vederlo. Però io adesso voglio dire una cosa, una butata, però noi adesso del cinema siamo molestati da questa cosa qui, perché ci continuano a chiamare per i pareri. Quindi è un argomento di cui si sa parlare. Ma intanto quello che voglio dire, la sorpresa scoprire anche la dimensione che è stata raccontata. Sì, ha dato il là, tutto quanto. Di questo Weinstein si diceva, io non frequento Hollywood, però si sapeva insomma un po' che era uno che faceva queste cose qui. Di altri personaggi non si sapeva nulla, poi bisogna vedere se è vero. Però questo adesso rischia di portare a una deriva, una deriva sbagliata, cioè la caccia alle streghe su chiunque, cioè diventa un po'... E oltretutto infanga un mondo che secondo me è molto più pulito di altri ambienti di lavoro, dove invece queste cose avvengono giornalmente, con delle pressioni. E non se ne parla con questo clamore, dice lei? Per questo clamore, assolutamente. Quindi io trovo che sia un po' una speculazione in questo momento che forse vende, come si deve dire, la stampa, la televisione, cavalca questo perché gli porta audience. Però non è un buon servizio secondo me al cinema, che non se lo merita, perché il cinema è molto più serio di quello che rappresentano. Ma nella sua lunga vita di regista, di sceneggiore, di produttore, c'è mai stata qualcuna che ha detto, sono disposta a tutto, pur di recitare in questo film? Non lo puoi intuire, però è un fatto anche di educazione, nel senso che noi veniamo da una famiglia che io ho lavorato con le donne più belle del mondo, elettrici più belle del mondo, non mi è mai venuto in mente. Ho una bellissima moglie con cui vado d'accordo da 30 anni, non mi verrebbe mai in mente di poter approfittare di questa cosa qui. È triste se lo fanno, però bisogna vedere se l'hanno fatto, oppure se sono questi ragazzi che si sono messe in condizione di... perché a me non mi è mai successo di fare un provino a casa mia e c'è una persona che è venuta e è rimasta una giornata intera a casa mia, si è disposta a spogliare... Insomma, questo vuol dire che anche dall'altra parte c'è qualcosa che non funziona. E certo, poi ci sono poi delle condizioni date, non c'è dubbio. Le chiedo un'ultima cosa perché lei lo accennava prima, ha detto la crescita, insomma ha sottolineato la crescita dell'astenzionismo in Italia. Lei va a votare? Io vado a votare sempre. Ecco, quindi... Ho votato anche con pagine che non sono quelle per andare quando ci sono le primarie, quindi cerco di fare il mio dovere, ci vado sempre. Quindi si impegna per quello che è il suo ruolo di cittadino? E cambio anche come si deve fare, cambio certe volte il mio voto a secondo di... Perché è fluida ormai la situazione, cioè non c'è più l'appartenenza ideologica. No, perché poi se tutto sappiamo, insomma non c'è più il comunismo, il fascismo, la democrazia cristiana, quindi è tutto un pochino più sfumato e a secondo delle promesse elettorali delle persone anche io vado a votare su questo. Mi dici una cosa, qual è il suo film che ha preferito in assoluto, che lei ama di più? Io? Sapore di mare. Sapore di mare, che anno era? Dell'83. E il film in assoluto che ha segnato più... proprio il suo modo di fare cinema? Beh, quello e poi Vacanze di Natale che ha dato in là una saga che ancora continua di film di Natale. Il Cinepanettone. Che allora non si chiamava Cinepanettone, si chiamava solo film di Natale. Film di Natale. Allora, Caccia al tesoro, tra pochi giorni nelle sale, diretto da Carlo Vanzina, scritto con Enrico Vanzina. Il castro abbiamo visto, un estratto ve l'abbiamo fatto vedere e poi ci avviciniamo appunto al periodo delle festività natalizie, quindi ci sarà modo di andare maggiormente al cinema. Buongiorno Mirta!